Con viene tradotto in tedesco dalla preposizione mit e si usa per indicare con qualcuno, con qualcosa o con un mezzo di trasporto. Ad esempio Vado volentieri con la mia migliore amica a fare shopping. Io vado volentieri con mia migliore amica shopping. Ich gehe gerne mit meiner besten Freundin shoppen. So in tedesco viene tradotto dalla preposizione auf. Si usa per indicare un qualcosa poggiato su una superficie, quando c'è contatto con la superficie. Ad esempio La mela sta sul tavolo. Der Apfel liegt auf dem Tisch. Auf viene usato anche per indicare qualcosa o qualcuno che si trova su un lato, al lato di qualcosa. Ad esempio Il cinema si trova sul lato sinistro. Il cinema trova se stesso su il sinistro lato. Das Kino befindet sich auf der linken Seite. Auf può anche indicare un movimento verso qualcosa o su qualcosa. Ad esempio Il gatto salta sul tavolo. Die catze springt auf den Tisch. La preposizione per viene tradotta in tedesco dalle preposizioni aus e für. Aus si usa per indicare emozioni, esperienze. Lo so per esperienza. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aus traduce anche l'espressione per paura. Ci siamo persuasi per paura di una delusione. Per paura di una delusione persuadiamo a noi. Aus angst vor einer Entschäuschung reden wir uns ein. Für viene usato invece per indicare una meta, un traguardo, per indicare le caratteristiche di qualcuno o qualcosa. Ho un regalo per te. Io ho un regalo per te. Ich habe ein Geschenk für dich. Per lui questo esercizio non è difficile. Per lui è questo esercizio non difficile. Für ihn ist diese Übung nicht schwer. Für si usa anche per dire in cambio di qualcosa. In questo negozio dieci panini per due euro. In questo negozio ottiene quello, ottiene lui, dieci panini per due euro. In diesem Landen bekommt man sein Brotchen für zwei Euro. Tra e fra vengono tradotti in tedesco dalle preposizioni zwischen e in e si usano per indicare una distanza o un moto attraverso un luogo. Ad esempio. Il treno non si ferma tra Francoforte e Darmstadt. Il treno trattiene non tra Francoforte e Darmstadt. Der Zug hält nicht zwischen Frankfurt und Darmstadt. Serve anche ad indicare dopo un lasso di tempo. Ad esempio. Tra un'ora chiama Sabine. In eine Stunde ruft Sabine an. Da come abbiamo visto, le nove preposizioni semplici vengono tradotte in tedesco da dodici preposizioni. Alcune di esse traducono più di una preposizione in italiano, come ad esempio aus, che traduce di, da e per. Oppure, per fare un altro esempio, auf, che traduce a, in e su. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti